Non era oggi in aula mai con l'Alessandrini, erano invece presenti i familiari e amici di Pierpaolo Panzieri in una mattinata nel Tribunale di Pesaro dedicata all'udienza dei testimoni dell'accusa e del dirigente della squadra mobile di Pesaro Paolo Badioli che con il supporto delle immagini di videosorveglianza acquisite ha ricostruito momenti chiave di quel 20 febbraio 2022 in cui Alessandrini uccise con 23 coltellate l'allora amico Pierpaolo nella sua casa di Via Gavelli. In aula scorrono le immagini di Alessandrini che arriva a casa di Panzieri con tanto di spesa per la cena così come quelle di quando fugge dopo aver commesso il delitto. Allo stesso modo si susseguono le immagini acquisite della fuga in auto verso la Romania e poi messaggi, quello ad un terzo amico al quale Alessandrini avrebbe chiesto di non presentarsi a cena in quanto bisognoso di alcuni chiarimenti con Panzieri e il vocale ascoltato in aula che Alessandrini ha inviato al padre dopo il delitto. Tutto bene, comunque alla fine abbiamo risolto, non è successo niente. Una serie di elementi emersi in una mattinata in cui l'avvocato di Alessandrini, Salvatore Asole, ha messo in chiaro la sua linea difensiva. Diciamo che noi abbiamo sempre sostenuto fin dall'inizio che a nostro giudizio quelle aggravanti sono insussistenti perché non sorrette da nessun riscontro investigativo, probatorio, quindi mi riferisco in particolar modo all'aggravante della premeditazione e mi riferisco in particolar modo all'aggravante dei futili motivi. Naturalmente perché questo qua perché io concordavo con la procura quella che era l'imputazione originaria dove si parlava di un preordinato intento perché ciò che è giusto bisogna dirlo nel senso che c'è stata poi tutta la fase successiva all'omicidio dove l'Alessandrini si è allontanato quindi per recarsi all'estero che questo farebbe presumere un preordinato intento, cosa ben diversa dalla premeditazione. Per quanto riguarda i futili motivi a nostro giudizio non sussistono perché bisogna sempre tener conto che stiamo parlando di un soggetto dichiarato dai periti appunto del GIP semi-infermo di mente pertanto un determinato episodio che per me potrebbe costituire un futile motivo per un soggetto affetto da determinate patologie non è un futile motivo. Quindi su queste due aggravanti diciamo che ci batteremo con forza per dimostrare la loro insussistenza. Resterebbe l'aggravante diciamo della crudeltà anche questa a mio giudizio insussistente perché se anche fosse questi morsi che lui avrebbe dato, questo calcio che avrebbe dato alla vittima rientrerebbe nell'azione comunque omicidiaria. Quindi noi appunto ecco la nostra linea è quella di dimostrare l'insussistenza di queste aggravanti dopodiché far valere la semi-infermità come attenuante appunto diciamo da concedere comunque all'Alessandria. È chiaro che nel gioco delle parti ci sono delle aggravanti e nel nostro avviso forse ce n'è un'altra da contestare ma lo faremo in udienza. Vedremo ad esito appunto dell'escursione degli ufficiali di PG che hanno effettuato tutti gli accertamenti e rilievi, ricostruito la scena del delitto e anche le modalità con le quali è stato purtroppo eseguito dall'imputato nei confronti di Panzeri. Vediamo oggi, insomma oggi credo che già i giudici a Corte d'Assiso si faranno un'idea precisa di quello che è successo. Grazie.